E abbiamo fatto un... Parlano da privati cittadini ma con un background importante nel sistema camerale di Pescara avendo amministrato l'ente dal 98 al 2009 con varie incariche per tempi diversi. L'incontro di oggi con la stampa per mettere nel mirino e contestare con fermezza le voci della possibile alienazione o locazione della sede storica dell'ente in via Conti di Ruvo e del Palabecci al porto turistico. L'ipotesi di mettere il reddito parte dei gioielli di famiglia dell'ente camerale Chieti Pescara nasce dalla recente ispezione ministeriale che ha chiesto di stilare un piano di razionalizzazione in modo da reperire le risorse necessarie per ricostruire l'immobile al foro boario nella zona industriale di Chietiscaro. Occorrerebbero 3 milioni. Un'eventualità che ha fatto sobbalzare dalla sedia gli ex amministratori. Sentiamo Ezio Ardizzi e Vittorio Di Carlo. La Camera di Commercio di Pescara ha iniziato la sua attività con la costituzione della provincia di Pescara e tra l'altro ha avuto l'onore, il piacere, la considerazione del Presidente della Repubblica viene inaugurata la borsa merci, una bella sede, ristrutturata, riammodernata, riqualificata e poi il pala congressi. Signore, questo è un gioiello anche di architettura, infatti in un mese in occasione del gioco del Mediterraneo. Non ci pensassero. Queste cose sono le nostre, non sono le loro. Bisogna dire che il Foro Boario attualmente è inagibile. Non mi voglio dilungare sul perché e sul per come è inagibile, ma è inagibile. L'ipotesi che è stata avanzata è quella di vendere i gioielli, diciamo così, delle Camere di Famiglia, delle Camere di Commercio per realizzare una nuova struttura all'interno del Foro Boario. Noi pensiamo che la cosa più semplice sarebbe quella di tenersi i gioielli di famiglia e magari alienare quello che non è un gioiello di famiglia, che può non essere utile e soprattutto attualmente non è agibile. Comunque il Presidente Strever in una nota ha detto non è in discussione la sede di Pescara. Il Presidente Strever mi fa piacere che dica una cosa del genere però allora non si capisce come mai hanno pubblicato, stanno per pubblicare questa manifestazione di interesse su se si può alienare o meno, se c'è qualcuno interessato ad acquisire sia in affitto che in proprietà questi due immobili perché se non è questo l'obiettivo basta non metterlo nella manifestazione di interesse. Per di più nel mentre si discute della nuova Pescara non si può pensare di chiudere la sede della Camera di Commercio a Pescara. Sulla vicenda la chiusura è piuttosto drastica e ancora di ardizzi. No, 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 non si tocca. Guardate quanto è bella. E noi la diamo a chi? Chi dovrebbe venire poi qua dentro? Chi viene a fare interessi privati in una struttura pubblica? Quella è una struttura pubblica.